E oggi la quinta domenica di Quaresima E oggi vogliamo veramente contemplare tutto il cammino di amore del Signore Sapendo che questo itinerario porta a un compimento Qual è questo compimento? Quando sarò innalzato da terra attirerò tutti a me Gesù vuole attirare al suo cuore Perché nel suo cuore possiamo sperimentare la vita di Dio Per donarla ai nostri fratelli Gesù viene innalzato Sì, innalzato su una croce Viene crocefisso Però c'è anche un altro innalzamento di Cristo Che è la sua glorificazione, che è la sua resurrezione Pertanto l'innalzamento di Cristo è la sua glorificazione Il Vangelo di Giovanni usa sempre una parola Che è tipica di Giovanni L'ora Attraverso questo termine Gesù non indica tanto l'ora dal punto di vista dell'orologio Il Kronos Ma indica il Kairos di Dio Il tempo della grazia E l'ora di Cristo non è solamente l'ora delle tenebre Non è solamente il momento difficile Della passione dolorosa E della sua morte cruenta Ma indica anche la sua gloriosa resurrezione L'ora di Gesù è la Pasqua di Cristo Di morte Di sepoltura Di resurrezione Questo è l'itinerario di Gesù Gesù che si abbassa I cieli dei cieli non possono contenere Dio Dio si fa uomo nel greppo purissimo della Vergine Si abbassa E la Kairos di Dio Si abbassa E poi Gesù attraverso questo abbassamento Inizia un cammino di innalzamento Che è un cammino di glorificazione Che ha la sua punta Il suo apice Della sua resurrezione E ascensione al cielo Sapendo che in questo cammino Gesù non è solo Accanto a Gesù In questo cammino di abbassamento E di innalzamento Vi è Ogni uomo Ogni donna Del passato Del presente E del futuro Cristo Diventa per noi veramente Una persona Plurale Perché non è solamente Cristo Ma con Lui C'è tutta la comunità E il genere umano Pertanto Coloro che mediante la fede I sacramenti E la carità Seguono il Cristo Potranno sperimentare Questo innalzamento Alla gloria E allora Non spaventiamoci Della croce Come diceva Il servo di Dio Dottorino Berlo La croce È collocazione provvisoria Ci aspetta Ci aspetta La gloria Ci aspetta Un futuro Pieno Di grazia Pieno Di bellezza Non solo In cielo In paradiso Ma anche Su questa terra Quando Siamo In grado Di Innalzarci Mediante le opere Buone Mediante Le opere Di carità fraterna Ma soprattutto Se come Cristo Saremo in grado Di dare la mano Al nostro fratello Alla nostra sorella Che magari È povera È sola Ammalata Lontana Senza Dio Senza speranza Questo è il nostro cammino E allora Guardiamo Al Signore Gesù E ringraziamolo Perché Ci vuole bene E allo stesso tempo Veramente Senza mai Abbatterci Nonostante Le nostre Fragilità Seguiamolo Nel cammino Sarà lui A donarci La sua forza E la sua pace Sapendo questo Che lui È con noi Tutti i giorni Sino Alla fine del mondo Sino A donarci A donarci Sino Sino